Aspetta, 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 aspetta Perché sta da solo, si Stiamo riva, riva E infatti ho detto, guarda che ora stanno le altre signore di noi Ma che devo fare io? Ma su queste cose, aspetta Chi no? Eh... E ha detto no, D'Ariane è qui, io non vengo Oh, c'è un branda, signore! Buongiorno Buongiorno, buongiorno Eh... Mettiamoci... Mettiamoci... Mettiamoci nel spazio, si sta riprendendo Ok, ok Ma c'è una ripresa, eh Voi che è cotto in fondo, questo Aspetta, aspetta Siamo bene? Buongiorno Buongiorno Iniziamo a stendere i piatti Sì, stendiamo E' lui il capo? E' lui il capo? E' uno ce l'aveva i guanti, sennò No, no, due, tre, capito E' uno ce l'aveva i guanti E' uno ce l'aveva i guanti E' uno ce l'aveva i guanti E' uno ce l'aveva i guanti